dell'interdittivo antimafia, sono aziende private, le aziende private purtroppo in Calabria interviene l'interdittivo antimafia, nell'ultimo anno 500 aziende calabrese Fallo finire, fallo finire, fallo finire, calmiamoci, vai Klaus Allora, le aziende private possono, intanto è rivolta ai giovani, dare un'opportunità ai giovani, ai vostri figli volete negare, vogliamo negare un'opportunità ai ragazzi? No, siamo tutti d'accordo, questa sarà un'opportunità Faccio parlare una persona per volta, lo faccio finire, lo faccio finire No, 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 è inutile che parlo io, io preferisco rispondere alle loro Allora, allora chiederei calma e tranquillità, se no vi fanno uscire immediatamente vi ho detto che vi faccio parlare, fate chiudere il suo intervento sul lavoro Chiederei del silenzio e basta Ma vuoi parlare del lavoro? Ci sono le forze dell'ordine che stanno facendo il loro lavoro Ok, allora se non vuoi parlare, vuoi dire cosa vuoi fare il mio lavoro? Non vuoi parlare, di cosa sei? Ci sono le forze, tu sei in diretta televisiva, vuoi dire cosa vuoi fare? Allora Ci sono le forze dell'ordine che stanno egregiamente seguendo il loro lavoro State sfiduciando il vostro rappresentante E non lo state interrompendo Lo state interrompendo voi stessi Ma c'è lui che deve rispondere Lei non può intervenire se non chiama le forze dell'ordine E allora Allora chiedo silenzio Vada No, 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 un attimo Io voglio precisare una cosa Che la scelta